ciao ragazzi oggi un video un po diverso dal solito io ho un canale in cui parlo di news gossip ma visto che c'è quest'aria natalizia già nell'aria con i black friday e visto che soprattutto non trovavo una notizia che mi piacesse particolarmente da poter pubblicare sul canale oltre a quella che ho fatto stamattina se non l'avete vista andate a vedere ve la lascio qui nel palino di informazioni ho pensato di fare un video sui 10 regali sotto i 10 euro da fare per lei se il video vi piace fatemelo sapere lasciandomi un like e commentando così farò anche il video dei 10 regali sotto i 10 euro di natale per lui iniziamo con un bel set notebook e penna sweet christmas sul sito della thun a 9 90 come vedete vi ho fatto un bello screenshot in questa categoria aggiungo anche dei bei romanzi che si trovano più o meno a questo prezzo per le amanti della lettura un bel bijou è sempre ben accetto perché non questo bel braccialetto su amazon a 9 euro e 34 per una vostra amica speciale restando in tema un bel portagioie da viaggio anche se non si viaggia entra perfettamente in borsa su amazon a 9 99 o anche di altri colori a di meno e per gli amanti del trucco c'è un bel portapennelli rosa o nero 9 99 sempre su amazon super pratico da tenere in borsa o in viaggio ci sono poi delle belle confezioni bagno schiuma e crema per il corpo come questa sul notino a 6 euro e 90 per le più freddolose c'è una bella sciarpa calda su shane a 6 euro e 75 e per le amiche stressate dal lavoro perché non farle rilassare con una bella candela profumata su maison du monde a 5 99 altra idea carinissima è una tazza personalizzata sul sito photobox a 5 49 per le amiche che amano stare in cucina ci sono questi simpatici set con guanto e strofinaccio o guanto e grimbiule a 3 49 su epicasa e per concludere non c'è niente di più natalizio del simbolo che rappresenta la stella di natale a 6 99 sempre su epicasa io vi ho nominato dei siti perché sono andata a cercare online ma queste sono cose che si trovano anche in negozi se siete fortunati e li avete vicino casa